La comunità del biologico Oggi l'idea è di riflettere in modo appunto congiunto tra tante voci, tante opinioni che fanno parte di questo mondo che nel frattempo è così tanto cresciuto e per definire un approccio comune del paese e non solo del paese a un fenomeno che inizialmente poteva sembrare un fenomeno di costume, oggi invece è una dimensione economica della crescita e dello sviluppo. Quindi che Bologna in questo modo diventi un po' centrale rispetto a questa riflessione è sicuramente per noi motivo di grande soddisfazione e ci dovremo lavorare per consolidare ulteriormente questa identificazione tra Bologna, biologico, sostenibilità, qualità della vita, insomma sono tutti temi di grande modernità.